Francesco Stella, buongiorno. Siamo qui nell'inaugurazione del vostro nuovo negozio. Dicci qualcosa di questo marchio Limited e di che cosa avete qua. Allora, questo è un marchio che, diciamo, arriva da Sesto Calende. Un ragazzo, Federico, di Sesto Calende, appunto, ha aperto questo primo negozio, poi ne ha aperto un'altra Biella e un'altra Chieri. E noi, un po', diciamo, interessati alla linea un po' particolare, un po' innovativa, l'abbiamo seguito e lui ci ha dato alcuni consigli importanti. E adesso proviamo a lanciare questo brand, sempre con l'appoggio di grandi marchi come Nike e articoli particolari che poi, se volete trovarci, potrete vedere. E qui, niente, speriamo di poter dare un'alternativa, una linea importante, una linea un po' diversa. I giovani ci cercano, cercano le scarpe. Speriamo possano venire in tanti perché è importante che, meno male, ci sia qualche ragazzo giovane che provi a lanciare queste soluzioni. Quindi una nuova idea giovane per i giovani. Direi i clienti che normalmente frequentavano il negozio di articoli sportivi BS Sport che è qui a fianco, si è spostato solo di qualche metro. Sì, noi siamo già conosciuti a Riva Rollo per BS Sport, articoli sportivi, quindi calcio, calcetto, volley, basket. Ci siamo lanciati in questa soluzione per spostare un po' la clientela senza dover trovare soluzioni completamente diverse. Siamo sempre una linea abbastanza sportiva pur essendo una linea moda. Quindi comunque la clientela non si differisce profondamente, rimane sostanzialmente la stessa. Vi ringraziamo, allora in bocca al lupo per questo nuovo marchio, questo nuovo negozio sempre al centro San Francesco di Riva Rollo.